L'Italia è un paese con un patrimonio artistico e culturale dal valore inestimabile. Tante le personalità che hanno lasciato la loro impronta nella storia. Scienziati, pittori, musicisti, letterati. Tra questi ultimi, degno di nota, è Luigi Pirandello. Proprio lui, con le sue novelle, ha ispirato lo spettacolo Novelle per un anno di e con Andrea Ortis. Affronta lo spaccato storico dove nasce Pirandello. Il clima è quello siciliano e lo spaccato storico è quello della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento. Lui nasce nel 67, muore nel 36, quindi raccontiamo anche lo scenario storico e poi entriamo un po' più con attenzione in tre novelle. Le novelle sono un tema letterario che è accompagnato per tutta la vita e al quale lui era molto affezionato. E lo facciamo però mischiando un ambiente, un paesaggio suonato dal vivo da quattro musicisti, cantato dal vivo, sempre in un clima siciliano, con brani e canti di Rosa Baristreri, che è una voce importante e cantautorale proprio di quella terra. Sul palcoscenico del Teatro Comunale di Ripalimosani, insieme ad Andrea Ortis, nomi importanti dell'attuale panorama musicale. Francesco Cipullo al pianoforte, Isidoro Grasso al sax soprano e flauto traverso, Marco Molino alle percussioni e alle chitarre Antonello Capuano, direttore musicale dello spettacolo. È stato l'approccio di chi si deve calare in una musica tutto sommato popolare, che è quella siciliana, ma naturalmente con il rispetto per quella tradizione, soprattutto perché si tratta di musica in larga parte eseguita con strumenti locali, quindi siciliani, come per esempio il maranzano o altri strumenti acustici. Dunque è stato un approccio molto rispettoso per cercare poi di riportarlo in una tradizione più centro-meridionale. Voce solista della rappresentazione con il suo timbro profondo e potente, Maria Carmen Iafigliola. Io sono la cantante, quindi l'interprete di pezzi di una cantante siciliana degli anni venti, che si chiama Rosa Baristreri. Nello spettacolo ci saranno diversi pezzi. Io canterò soltanto quelli di Rosa, appunto Rosa Baristreri. È un personaggio complicato, una storia importante alle spalle, una storia di miseria, povertà. Nelle sue canzoni c'è tutto, il suo dolore, la sua sofferenza, l'attaccamento alla sua terra natia, che è la Sicilia. Ed è anche un canto di speranza e l'invito a non abbattersi mai, a stringere i pugni e andare sempre avanti e non perdere mai la dignità. Lo spettacolo è itinerante. Prossimo appuntamento il 12 agosto a Campobasso al Castello Monforte.